Tornare con la mia famiglia e far vedere ai ragazzi dove era nato mio padre vuol dire molto per me. Eccoci finalmente a Lipari! E mentre siamo qui, sto cercando una nuova ricetta di biscotti da poter rifare in America. Preparerà uno dei biscotti più buoni che fanno qui, quelli che piacciono a te, i cassatetti. È uno dei loro biscotti più rinomati. L'impasto si fa con farina, burro e vino bianco. Il ripieno è a base di mandorle, fichi, nocciole e vino cotto. Sulla pasta vengono praticate delle piccole incisioni. Ah, guarda, usa le forbici per fare le incisioni, molto carino. Mettiamo in forno i cassatetti, li facciamo cuocere e la pasticceria si riempie del loro profumo. Delizioso! Scottano un po'. Questi biscotti sono squisiti!